Non sarà il silenzio a rendere Olbia più sicura nella mancanza di risposte da parte dell'amministrazione comunale alle richieste che provengono dai banchi dell'opposizione in consiglio comunale e direttamente dai cittadini che abitano nelle vie del centro, sempre più spesso teatro di episodi di violenza. Prima l'esposto presentato al prefetto di Sassari dal comitato del centro storico di Olbia, poi una nuova mozione dei consiglieri comunali del PD per chiedere interventi urgenti sull'emergenza sicurezza in città. Un appello che è declinato in un atto ispettivo, gli esponenti della minoranza rivolgono anche al questore affinché venga predisposto un dispositivo interforse periodico nel cuore della città. Quel salotto con giostra e ruota panoramica che sempre più spesso ospite episodi di violenza che minacciano la tranquillità di residenti e turisti. Quel salotto cittadino spaccato in due dal luminoso lungomare al buio di piazza mercato. I consiglieri DEM chiedono al sindaco Settimunizi di riattivare il presidio di polizia locale nel centro storico con l'ausilio di una vigilanza anche dinamica e di ripristinare l'accordo con le forze dell'ordine per garantire una loro presenza a piedi per le vie del centro e infine riattivare gli impianti di videosorveglianza, molti dei quali non sono funzionanti, e un remake di richieste già avanzate cadute nel vuoto per contrastare un fenomeno chiosano dal Partito Democratico ormai fuori controllo.